Un tavolo tecnico con governo regione e provincia di Avellino che serva a individuare soluzioni allo Stato in cui versa il sistema viario irpino, è quanto ha dichiarato il deputato Angelo D'Agostino al ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio. La recente chiusura di un chilometro dell'Ofantina all'altezza di Conza della Campagna, scrive parlamentare, sta recando ulteriori disagi alle aziende che operano in Alta Erpinia e ai cittadini che si servono dell'arteria per spostarsi in direzione di Avellino e Calitri. La strada alternativa che gli automobilisti sono costretti a percorrere è in uno stato di dissesto totale e a oggi non è chiaro di chi ne sia la competenza per cui lo stato di abbandono è pressoché totale. Nonostante l'impegno dell'amministrazione provinciale di Avellino, osserva il deputato, è evidente l'esigenza di maggior risorse per rassicurare la manutenzione della rete viaria locale. Dal 2013 al 2017 è stata chiesta alla provincia una riduzione risorsa pari a 5 miliardi e 200 milioni di euro, con un taglio della spesa corrente dal 2013 al 2016 di 2 miliardi e 700 milioni di euro, cioè il 40% in meno. Una considerazione non più sostenibile nonostante le risorse che sono state recentemente messe a disposizione dal governo. L'economia meridionale può risollevarsi solo se il territorio è adeguatamente dotato di infrastrutture e se si creano condizioni tali da agevolare nuovi investimenti. In mancanza, chiude ad Agostino, il sud dell'Irpinia non hanno un futuro.